Ciao a tutti ragazzi, sono Sino178, benvenuti in questo nuovo video, siamo sempre a Galliano Sino178, benvenuti in questo nuovo video, sono Sino178, benvenuti in questo nuovo video, sono Sino178, benvenuti in questo nuovo video, sono Sino178, benvenuti in questo nuovo video, Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.